La partita della parità e del rispetto contro la violenza sulle donne in campo. Giornalisti Rai nella squadra avversaria, attivisti e attiviste per i diritti umani insieme a personaggi dello sport, del mondo dello spettacolo. Vediamo con Ivana Delvino. È importante usare lo sport per supportare e promuovere i diritti umani e contrastare la violenza sulle donne. Abbiamo scelto il calcio come un linguaggio universale per dire a tutti che c'è sempre un buon momento per parlare di violenza contro le donne per essere al loro fianco e ricordare che le cose si possono cambiare. Una partita per la parità di genere e il rispetto. A Bologna sono scese in campo due squadre miste composte da uomini e donne giornalisti del circolo sportivo Rai con attrici, sportivi, attivisti per i diritti umani e anche rappresentanti delle istituzioni. Sono le azioni che mettiamo in campo che fanno la differenza e quindi anche queste partite che possono sembrare simboliche ma in realtà lanciano sempre dei messaggi importanti, condivisi. L'iniziativa è stata promossa da Amnesty International Italia, Assis, AIC, Sport for Society, Wisp e Usigrai. Per dire ancora una volta no alla violenza sulle donne, per dire ancora una volta no ad ogni forma di discriminazione. Si parla spesso di cultura sportiva e credo che si possa fare tanto proprio per trasmettere attraverso lo sport questi valori. E alla partita hanno partecipato gli studenti della scuola superiore ITC Manfredi Tanari che hanno preparato uno striscione contro la violenza di genere. Se hai qualche problema devi chiedere assolutamente, non devi mai aver paura di chiedere e penso che la partita di calcio sia una forma di richiesta ma anche di protesta contro la violenza. Le belle notizie. Perché? Perché effettivamente se parliamo di violenza contro le donne e il 25 novembre è la giornata proprio contro la violenza di genere, di buone notizie, ce ne sono davvero poche. Non passa giorno che non leggiamo di donne uccise o maltrattate sui giornali, ma spesso la violenza è ancora più subdola. E non è detto che se non ci sono i coltelli non faccia male. Per esempio già con il linguaggio abbiamo un sacco di insidie delle quali magari non ci rendiamo nemmeno conto. E noi proprio di linguaggio vogliamo parlare con la nostra ospite di oggi che è Manuela Claisset. Buongiorno. Buongiorno, che è responsabile delle politiche di generi e diritti del WISP, che è l'Unione Italiana Sport per Tutti. Perché? Perché parliamo... Buongiorno. Buongiorno, grazie a voi. Noi abbiamo invitato lei, proprio in ottica di questa giornata, di questo periodo in cui parliamo di violenza contro le donne, di violenza di genere, proprio perché il linguaggio dello sport spesso ci dà esempi negativi in questo senso. Sì, questo è vero, però possiamo anche lavorare ovviamente sulla positività e cercare di vedere insieme che cosa fare. Il linguaggio è il primo momento, l'incontro che molto spesso abbiamo. Quindi attraverso le parole, attraverso appunto quello che vogliamo in un qualche modo portare all'interno delle attività, possiamo in un qualche modo fare violenza e fare discriminazione. Questo è uno dei lavori che appunto un ambito educativo come quello dello sport non può negare e non può sottovalutare. Come WISP cerchiamo di mettere in campo una serie di attività e di progetti, cercando anche da una parte di vedere come dare visibilità nella maniera corretta. Ovviamente tutto ciò che è lo sport femminile, quello sport che riesca di essere molto spesso marginale e quindi un lavoro anche sulla comunicazione. Faccio un esempio, il lavoro che abbiamo messo in campo con l'Associazione Giulia, proprio su donne sport e media, proprio per ragionare in questo modo. Associazione Giulia, associazione di giornaliste. Esatto, esatto, proprio perché crediamo che le alleanze siano importanti. e quindi come raccontare, come far vedere, come mostrare lo sport, parlando proprio di donne, perché prima di essere discriminate rischiano di essere loro. E quindi queste idee guida ci hanno dato ovviamente una molto importante per i termini giusti da utilizzare, ma anche appunto cosa far in un qualche modo valorizzare, vedere ed evidenziare. Ecco Manuela, ci fa un esempio proprio di linguaggio sbagliato che usiamo magari anche noi, anche senza rendercene conto? Molto spesso rischiamo di non declinare al femminile, questo può essere un problema. Vediamo, peraltro, abbiamo visto immagine di calcio femminile. Perché molto spesso si dice arbitra non suona bene, oppure parlare di capitana, quindi di non declinare al femminile. Crediamo che invece questo sia importante. Ma c'è anche un altro aspetto che ci chiama appunto in causa come mondo sportivo, tutto ciò che è quella parte di educazione, quell'ambito educativo verso quelle figure che hanno un ruolo importante nello sport. Ecco, rapidissimamente, questa mattina a Bologna, la partita della parità e del rispetto, quarta edizione, dove chi gioca? Allora, attraverso momenti come questo cerchiamo di fare appunto sensibilizzazione, la partita nasce un po' di anni fa, questa è la quarta edizione, siamo al circolo Il Fossolo, e l'idea nasce appunto da WISP, da ICI, da Amnesty International, da ASSIST, USIGRAI e Sport for Society, insieme al patrocino della regione Emilia Romagna e del comune di Bologna, ma siamo insieme alla Federazione Nazionale della Stampa, USSI e una serie appunto di varie associazioni che lavorano e operano con noi, per sensibilizzare. Quindi una giornata che parlerà appunto di sport, incontrando anche i centri antiviolenza, incontrando le scuole, questo ad esempio con il Manfredi Tanari mi ha fatto un lavoro specifico. E di lavoro ce n'è davvero tanto da fare. Assolutamente, perché chiediamo le loro parole. E noi continueremo a parlarne, proprio anche da questa trasmissione. Grazie, grazie molte a Manuela Claiset, responsabile politica e di genere e diritti del WISP, e oggi la partita della parità e del rispetto.